C'è un'eterna indecisione all'interno di queste persone che inevitabilmente mette in discussione la coppia, la sua progettualità. Sindrome di Peter Pan. Che cos'è, come impatta sulle relazioni, quali sono i significati prevalenti, quali sono i comportamenti che tendenzialmente queste persone manifestano all'interno di una storia sentimentale. Allora, il termine penso che sia già abbastanza rappresentativo, sindrome di Peter Pan. Ecco, piccolo inciso, si parla di sindrome ma in maniera impropria, nel senso che non è un disturbo presente all'interno del DSM, cioè il manuale diagnostico, diciamo, riconosciuto dalla comunità scientifica e che racchiude tutto l'insieme di possibili disturbi, disordini di natura mentale. È una sindrome impropria che viene utilizzata per raccontare alcuni tratti comportamentali o di personalità che un individuo agisce nella sua vita e sta a rappresentare, simboleggiare, insomma, un po' il Peter Pan. È facile capire come siano persone tendenzialmente poco inclini all'assunzione di responsabilità, alla progettualità, alla definizione di ruoli e di compiti, alla pianificazione, eccetera. Sono persone che vogliono essere degli eterni, o tendono ad essere degli eterni immaturi, ovvero delle persone che poi difficilmente approdono, accedono alla vita adulta per come la società la interpreta. Quindi vengono spesso identificati come superficiali, poco affidabili e via discorrendo. Questa cosa, tra l'altro, ovviamente impatta non solo nel come la persona vive la propria vita, ma in cui, non so, il proprio lavoro, le proprie amicizie, le proprie scelte, ma anche e soprattutto le proprie relazioni, nel senso che poi nel momento in cui questa persona si relaziona con un potenziale parto, quindi con una persona che la coinvolge da un punto di vista sentimentale, porta con sé, come tutti noi facciamo, il proprio bagaglio di risorse, di limiti, di fatiche, di sintomi, di discorrendo. Questa cosa inevitabilmente impatta il tipo di relazione. Ci sono tanti modi attraverso i quali, appunto, la sindrome di Peter Pan impatta sulla relazione sentimentale. Adesso te ne dico 4-5, insomma, che penso possono essere utili per capire se tu o il tuo partner, la tua partner, effettivamente rientrate in questa casistica. Punto numero 1, difficoltà ad assumersi delle responsabilità. E non parlo di responsabilità come matrimonio, convivenza, eccetera, questo eventualmente ne parleremo dopo. La responsabilità è semplice, parte di contributo che viene portato all'interno della coppia, che può essere semplicemente un contributo di natura economica, la divisione delle spese, il pulire casi, il ricordarsi di portare la macchina a fare la revisione, il tagliando, eccetera, poter contare sulla persona nello svolgimento, ad esempio, di una commissione. Cioè, difficoltà nell'assumere una responsabilità. Punto numero 2, ed è quello a cui facevo riferimento prima, ad esempio matrimonio, convivenza, eccetera. Paura dell'impegno, cioè di qualunque cosa che prevede una sorta di progettualità e di comunicazione della propria decisione al mondo, all'altro. Guarda che ci stiamo per sposare, guarda mondo che stiamo andando a convivere, guarda mondo che stiamo per avere un bambino, stiamo cercando di avere un bambino, guarda mondo che stiamo acquistando una casa, e via discorrendo. Non necessariamente perché la persona non è convinta, cioè colui che è, colui che ha la sindrome di Peter Pan non è convinto del partner, ma perché fa proprio fatica nell'assunzione di un impegno rispetto alla vita, caratteristico appunto del tipo di difficoltà che vive. Punto numero tre, instabilità emotiva, ossia la difficoltà e la poca attenzione nel proprio controllo e consapevolezza emotiva generano spesso sbalzi d'umore, sbalzi d'umore che possono essere proprio legati a un'altalena emotiva non indifferente, per cui una stessa esperienza genera in un momento una determinata reazione, magari in accezione positiva, e la volta successiva una reazione completamente diversa, magari completamente negativa, completamente, non so, rabbiosa piuttosto che gioiosa, piuttosto che felice. Anche qui legato alla difficoltà e allo spavento nel diventare consapevoli delle proprie emozioni, quindi poterle contrattare, commentare, discutere, conoscere insieme all'altro. Punto numero quattro, incoerenza rispetto al futuro, incoerenza rispetto alla progettualità, questa se vogliamo è una degenerazione ulteriore della presa di impegno precedente, perché ha a che fare soprattutto con la volontà di pianificare qualcosa e di portare avanti la decisione presa nella costruzione di un progetto futuro. Le cose all'interno della coppia vengono decise, magari ci vuole del tempo per decidere, ma ci vuole ancora più tempo per poi mettere in pratica, soprattutto quando queste decisioni implicano dei cambiamenti importanti. Bene, c'è un'eterna indecisione all'interno di queste persone che inevitabilmente mette in discussione la coppia, la sua progettualità, la sua possibilità di continuare a stare insieme e via discorrendo. Punto numero cinque, insoddisfazione del partner. Questa ha a che fare con due aspetti. Quando parlo di insoddisfazione, il primo, il più evidente, è la tendenza a una sorta di egoismo, per cui colui con lei che vive la sindrome di Peter Pan in qualche modo si aspetta che sia l'altro a dover soddisfare i propri bisogni, si aspetta che l'altro sia in un qualche modo l'adulto della coppia. E quindi diventa spesso egoista, è più centrato su di sé piuttosto che sul far funzionare la relazione. Punto numero due, che può essere estremamente frustrante all'interno di queste situazioni, è che quando il partner adulto in un qualche modo deluso, poco soddisfatto, questa cosa diventa estremamente destabilizzante per la persona che si sente frustrato o frustrata nella possibilità di essere in un qualche modo degno. Quindi si sente rifiutato, respinto, diventa addirittura capriccioso nell'idea di dire io non posso essere rifiutato, io non posso essere rifiutato. Come ti permetti tu di fare questo? Come ti permetti di permetterti di non soddisfare i miei bisogni, di averne i suoi e di manifestare il tuo disaccordo? Ora, ci sono tanti altri elementi, tanti altri esempi che potrei fare a dimostrazione di come questa caratteristica di comportamento e di tratto, talvolta di personalità, impatta sulla relazione sentimentale. Qui te ne ho voluti dire alcuni. Se tu vuoi aggiungermene degli altri nei commenti, benvenuto, insomma benvenuta, perché è, penso, una discussione che può interessare molti, quindi se porterai il tuo contributo te ne sarò grato. E ti ricordo che nel momento in cui non vuoi perdere alcun tipo di aggiornamento o nuovo video, basta che ti iscrivi al canale e attivi la campanella. A presto.